Buon pomeriggio, ciao a tutti. Allora partiamo intanto con un po' di disclaimer, partiamo con un po' di disclaimer. Questa è una live sperimentale, sponsorizzata, mi hanno contattato da un po' di tempo questi, diciamo, di Getquin, che è un'azienda tedesca, che fanno questo portfolio tracker, ne ho già sentito parlare, ho già visto amici che lo sponsorizzavano, io non l'ho mai usato, non uso applicazioni di tracking di portfolio, però, 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 mi hanno detto cerchiamo awareness, vogliamo che si sappia che esistiamo, quindi vorremmo darti un account, darti un account premium, ci piacerebbe che facessi una live in cui esplori le funzionalità, non sono vincolato a dover dire cose buone necessariamente, e è un esperimento, vediamo se mi piace questo tipo di contenuti, però alla fine, ragazzi, mi pagano per esplorare un prodotto che in teoria è nel mio campo e per fare una review onesta. Chi è interessato al prodotto? mr.rip.gq Tempismo perfetto, è una prima settimana che cercavo qualche recensione su Get, quindi da qualcuno che era appunto affidabile, grazie Vitoro, adesso andiamo a vedere un po' di che si tratta. Allora, io il prodotto non l'ho ancora praticamente mai usato, soltanto oggi ho creato l'account, setappato l'account, e ho avuto già qualche problemino, e di questo ne parliamo, però non ho ancora visto nessuna delle funzionalità in dettaglio, l'ho fatto volutamente perché volevo esplorarle in live e quindi non partire sapendo quali funzionalità non mi piacciono, quali mi piacciono, e così via. Questo quindi è Get Queen, cosa dichiara di fare? Track your assets in real time. Import, track and analyze more than 800.000 assets on Get Queen. App mobile, io vado su desktop ovviamente, bla bla bla, all your assets in one place, quindi se hai più portfolio, la funzionalità, l'utilità è che hai più assets nello stesso posto. Track past and future dividend, vanno molto spinti sulla gestione del cash flow, quindi se hai dei dividendi, bla bla bla, e così via, benchmark your portfolio, e così via. E degli insights sul portfolio, questo non sappiamo se è una feature, ancora non lo so, se è una feature free o una feature advanced, quindi premium. Join the investment community, unlock the next level. Ok, perfetto. Login. Login e qui ovviamente ho già un account. E via, sono loggato. Primo problema che ho riscontrato è nell'import da Interactive Brokers. Ok? Ho fatto fare, ho creato su Interactive Brokers un secondo user. Anch'io ovviamente non è che mi fa impazzire l'idea di dare accesso indiscriminato a un tracker, al mio portfoglio su cui ho 1.200.000. Quindi, anche se ho visto che molti hanno linkato l'account TB a Get Queen, ho cercato online, ho fatto un po' di due diligence. Quello che ho fatto, ho detto, beh, IB è un broker molto sofisticato, quindi quello che ti consente di fare è fare degli user. Quindi tu puoi avere più utenti sul tuo account. E quindi ho creato un nuovo user, gli ho dato dei permessi read-only, gli ho messo un altro username, un'altra password, è un utente che ho usato per connetterlo con Get Queen, e poi quest'utente verrà killato e comunque non ha accesso, non può fare azioni quest'utente. Quindi su Interactive, molti altri broker probabilmente non consentono una feature del genere. Io personalmente comunque un po' avrei paura a dare accesso direttamente all'import dei dati dal mio broker. L'ho fatto in modalità read-only, utilizzando un altro utente, e così via. Questa, per far vedere su Interactive Brokers come funziona, ho creato più utenti, dando nomi diversi. C'è anche la possibilità di dare dei ruoli, quindi qualcuno che è l'owner, qualcuno che è il manager, qualcuno che è l'asset manager, o il consulente. È molto figo Interactive Brokers su questa cosa qua. Sì, però stiamo a parlare dei Get Queen, no dei IB. IB è il capolavoro. Ho creato un secondo utente, gli ho tolto tutti i permessi, e via. E quindi l'ho lasciato connettere, ok? Facendo così, Ad Portfolio, cercando Interactive Brokers, mi dà diverse opzioni. Io in realtà sto su quello UK, ho visto quello US, ma mi dice di mettere il numero di telefono americano. Non è il caso. Interactive Brokers, l'ho connesso, connesso in automatica, è criptata, read-only, server europei. Gli ho dato le credenziali dell'account read-only, per cui in teoria non può far danni. Il massimo problema che può esserci è un data leak. Può esserci che qualche entità che fa data breach può vedere i miei dati, che però, basta che apre YouTube e li vede lo stesso. E comunque è rimovibile in ogni momento questa connessione. e quindi mi sento abbastanza tranquillo. Quindi, qui abbiamo intanto la home. La home contiene, vabbè, qualche informazione, top gainers, top losers, anche sti cazzi. Abbiamo un post, vabbè, c'è una parte social, quindi si può seguire qualcuno. Si può seguire qualcuno. Interessante. Quindi pesca via API solo un determinato numero di broker e ho conti online. Io ne ho trovati veramente tanti. Ora ci andiamo. Perché fin adesso sono un po' deluso della parte di import, perché dice che non c'è una lira. Cioè, dice che io ho fatto l'import in Tractive Brokers. è stato oltre un'ora a fare importing e quando è arrivato non vedo dati. Ora, questo è uno strumento europeo. Mi sono detto magari non gli piacciono i miei ETF non-usage. Oppure c'è del tempo del delay. L'ho fatto poco fa questa cosa qua. Sono stato un po' di tempo a guardare questo schermo mentre facevo alto. Diceva, sincronizzazione in progress. Stiamo prendendo i tuoi dati. e bla 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 potrebbe prenderci qualche minuto. Terminata questa procedura, non ho ricevuto né un errore, ma semplicemente, ok, ecco il tuo portfolio. O sono crollati i mercati. Oppure niente. Quindi un po' questa parte non mi ha fatto impazzire. Andiamo un po' a vedere che altro si può fare. Si può intanto aggiungere portfolio. Dove sta? Hanno tantissima roba. Io ci ho trovato anche molti di quelli svizzeri. Swissquote, ci trovo anche UBS. Tiè, ci trovo Post Finance. Ce lo trovo? Post Finance sì, ma il logo non è quello però. Post Finance sì, ma il logo è giallo. Quindi non è poi, questo è poi mai tedesco? Non lo so. Ci trovo, io ho, Banco Posta? No. Comunque, Broker? No, Fineco? C'è. Directa? Ci sta un po' di roba. Ci ho trovato anche, per assurdo, Finpension. Finpension però, l'unico import è manuale. Quindi è un po' un peccato. Manual import. E ora vediamo un po' come si aggiungono, perché alla fine andremo a fare un po' cose manuali. Andremo a aggiungere transazioni in maniera manuale. Alcuni, quindi esistono anche entità, tipo anche Viac ci ho trovato. Viac. PDF import. Interessante. Questo non l'avevo neanche visto. Sai, questo lo facciamo? Lo facciamo subito. Gli ho provato a lanciare... We can't parse your file. Current supported files are by self-saving plan. Questo, in realtà, è un buy order in PDF. Quindi non gli piacciono questi PDF. Quindi, peccato, peccato. Quindi, insomma, mi consentono di, simply drag and drop any number of PDF files into this window. Alternatively, you can manually select the corresponding file using the button below. Currently supported documents are trading invoices for buy self-saving plan. Magari può darsi che c'è un Viac tedesco? Può darsi che non è il Viac che intendo io? Vabbè. Non riesco a fare import da Viac. Finiamo di vedere la UI, la home. La home abbiamo. Vabbè. Azioni che fanno cose. Dei suggerimenti. Market news. Recent news. Il tuo feed. Perché hanno funzionato a social. Per qualche motivo potrei seguire. Non c'è nessuno che segua. Ci sono anche contenuti sponsorizzati. Ci sta gente. Potrei seguire qualcuno. Vediamo un po' il senso di questa cosa qui. Cioè c'è qualcuno che fa operazioni, compra azioni e poi share. C'è un Wall Street Bets embeddato dentro qua. Con i pro e i contro. e comunque anche con la pubblicità dentro. Ci sta Elon Musk. C'è l'account. C'è Musk Melon però. Vediamo un po' chi è Musk Melon. Complimenti. Complimenti. Eccolo qua. C'è Elon Musk. Che è sui mercati cripto ovviamente. Elon Musk CEO. E va tutto bene. Va tutto perfettamente. Questo aveva un account con zero. E ora sta perdendo. Ha perso soldi. Questo Elon Musk CEO. Aveva. Aveva. No. Aveva. Ok. No. Aveva qualche. 10 alla meno 12 euro. E ora sta su 10 alla meno 16 euro. Vabbè. Ha perso qualche ordine di grandezza. Vabbè. Anche sti cazzi. Andiamo sul mio portfolio. Ovviamente adesso non ho nessun asset. Asset. Non ho nessun portfolio importato. Devo aggiungere portfolio. Il modo di farlo è. O aggiungere un portfolio importandolo dal broker. Oppure. Oppure. Andare di custom portfolio. Si possono mettere. Broker. E ce ne hanno veramente tanti. Exchange. E qua credo che andiamo in roba cripto. Wallet. Ok. Io avrei un wallet Kraken con 0,16 dollari dentro. Alternative assets. Puoi mettere che hai una casa. Degli NFT. Peer to peer. Art. Io avrei. Avrei dei collectible. Buy. Description. Terra. Forming. Mars. Tutto. Transaction date. Vabbè. Settimana scorsa. Purchase price. Mettiamo. Sto. Sto giocando. È 150 euro. Current value. Secondo me ne vale già 200 euro. Ve lo dico. Ve lo dico. Add transaction. Vediamo un po'. Oh. Ok. Si possono immagino. Allo stesso portfolio. Che ho chiuso adesso il portfolio. Potrei aggiungere immagino. Altre cose. Ok. Add transaction. Perfetto. Mettiamo che in realtà voglio averlo venduto. Dove sta qui? Collectible. Sell. Terraformi Mars. L'ho venduto ieri. Purtroppo. In realtà. Ero convinto che valeva 200. L'ho venduto a 100. Magari. Il 17. Add transaction. Vediamo se c'è uno storico year to date. Eccolo qua. Allora. Month. Allora. Ho aggiunto una posizione. E l'ho venduto in perdita. Facciamo così. Cambiamo. Editiamo un po'. Voglio capirlo. L'ho comprato. Mettiamo che io in realtà l'ho venduto effettivamente a 200. Salva. Mi aspetto che mi avanzino dei soldi. Non per il foglio valio. Ok. Perfetto. Perfetto. Beh. Non dovrebbe però diventare cash quella posizione. O immagino dove metterla a mano. Cash. Deposit. Proventi. Proventi da vendita. DM. Così è un po' faticoso. Quando l'ho venduto il 17. Il 17. Quindi ho venduto a 200. Tiè. Ecco fatto. Portfolio value. Avevo il mio board game. L'ho venduto. E ora. Non capisco bene. In base a cosa qui c'è un po' di. Cioè. Mi aspetterei uno scalino. Non capisco bene questa parte qui. Ok. Beh. Non ammetto che. Feedback per gli sviluppatori. Io ho fatto le seguenti operazioni. C'era anche l'orario. Aspetta. Il 12. Compro terraformi in marzo. Utilizzando il cash che avevo immagino. Poi vendo. C'è un orario. Cioè. Potevo mettere anche l'orario. Penso di fare un cazzo a nessuno l'orario. E lo stesso giorno. Li considero deposito. Perché vendo il gioco. Faccio soldi. E quindi. Ok. Diciamo così. Qua è corretto. La parte di transizione. La parte verde. Non so. Portfolio value. A un certo punto. Perché 190 e 42. Non ne ho idea. Ma. Ok. Va verso i 200. Probabile che si possa chiudere la posizione. In un'altra maniera. In realtà. Mi sembra aver visto che. Le posizioni. Di hard. Di collectible. Hanno soltanto buy e sell. Però vediamo un po'. Vediamo un po'. Questa qua. La vendita. Sell. La security era questa qua. Perché era interessante. E ti mette le security che tu hai creato. Precedentemente. La data. Il price. Advanced input. Ah. Vedi. 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 Puoi mettere l'orario. L'ho venduto alle 7 am. E ok. E il deposito. Comunque. Alle 7 am. Siamo a 7 e 0 5. Cioè i 5 minuti in cui questi 200 euro stavano in ballo. Tecnicamente corretto. Tecnicamente corretto. C'è stato i 5 minuti in cui il portfolio c'era 0. Vabbè. Non entriamo troppo in dettaglio su queste cose. Dai. Facciamo così. Giù. Rimettiamo 7. Del mattino. Immaginate. Io che vendo terraformi in marzo ai 7 del mattino. E ci piace. Il problema qual è? Che in realtà già da poco prima si era impennato il valore. Perché sicuramente io ho indicato che nell'acquisto. Già il current value era diverso. E io invece non lo metto. 150. Nessun current. Il current value per me era 150. Poi tutto realizzato al momento della vendita. Tutto realizzato al momento della vendita. E non cambia niente. Ok. Va bene. Aggiungiamo altre cose. Aggiungiamo il portfolio di Mr. Rip. Possiamo indicare buy. Mettiamo un ticker. Mettiamo Vanguard VT. Vanguard da Wall Street Market. Quindi abbiamo anche gli etf non usage. Quantity. Ok. Diventa un po' complicato. Però ricostruiamo il mio portfolio per tutto quanto ho comprato oggi. Quindi purtroppo non mi dà informazioni sul passato. sulle performance, sui costi. Però lo ricostruiamo oggi. Oggi. 1200 shares. Ok. Price. Lasciamo quello che mi dice lui. Add transaction. Poi mettiamo VIM 200 shares. Add transaction. Buy. VYM. 200 quote. Add transaction. Poi VYMI. Però ho anche delle options. Sì. È un po' complicato. VYMI. Tutto comprato oggi al prezzo che mi sta dicendo lui. Per cui tutta la parte sul profit e loss è casuale. C'è solo un problema che me lo sta misurando in euro. Me lo sta misurando tanto in euro. Io in realtà vorrei queste cose misurarle. Cioè le sta misurando in euro. Edit. Il prezzo secondo lui è questo in euro. Io so quando in dollari. Vediamo il prezzo effettivo di VYMI ad oggi. È 73 dollari. Quindi questo qui già. Ok. Vabbè. Ci sta più o meno. Me l'ha già apprezzato in euro. Ha preso la quotazione in euro. Per cui a quantomeno cosa sta funzionando. C'è solo un problema che l'impatto di terraforma in marzo qua comincia a diventare un po' minuscolo. Andiamo avanti. Ma che voglio aggiungere tutto quanto. BYMI. Erus. Andiamo se lo trova. Il. MSI Russia. Quanti ne ho? Mille. Troppo dolore. Troppo dolore. Non lo trova. Non lo trova. Non lo trova. Vabbè. Doveva essere 004 ormai il prezzo ufficiale. VTV. 1100. 1100. Questa poteva essere una cosa che effettivamente poteva essere fatta offline. Ma io sto facendo una blind run. VSS. VSS. Quante ne abbiamo? 600. Aggiungi. VBR 400. Quanta roba. Ma fa proprio più semplice. VBR. Però ce le ha. Ce le ha tutte. Ce le ha tutte. JQ. Qui andiamo su quelle un po' più difficili. JQUA. Quality Factor. Ce l'abbiamo. Non sto controllando i prezzi. Do per scontato che funzioni. IQLT 1600. IQLT. Sì. 1600. Aggiungi. Sony. This is not financial advice. 100. Intel. Mi costringe a provare dolore. Intel. 1000. E ok. La parte stocks l'abbiamo messa tutto. Tranne. Tranne. Tranne la parte diciamo fondi pensione. Che andiamo a mettere adesso. Andiamo a mettere. Abbiamo. Obbligazioni. VEMT. Vanguard. Emerging market. Sta ceppa. Poi abbiamo GHYC. GH. Sono la parte bond. C'è l'IA. C'è il bravo. C'è tutti. 600. Vediamo che succede. Intanto. Intanto il portfolio aumenta. Poi abbiamo. Hugs. Hugs. 10.000. Canistracci oil. Hugs. 10.000. La ricerca può essere fatta per ticker. Immagino anche per Isin. Io vado per ticker al momento. BNDW. Sì. E quando faccio la ricerca controllo che il nome sia lo stesso. Poi immagino che chi ha portfolio un po' più semplice del mio ha meno problemi. Poi SEGA. Torna la nostra SEGA. SEGA. I share core government bond. Perfetto. 820. Che cifra simpatica. E poi abbiamo ancora bond europei. Abbiamo quasi fatto. IEBB. Che sono bond corporate triple B. Quelli un po' più speculativi. This is not financial advice. 60.50. Aggiungi. Che è molto. Crollano i tassi per cui. E CEBE. 2000. 2000 CEBE. CEBE. Anche gli iBond. Ok. Lo chiama B26A. B26A. Però voglio vedere se sono quelli là. Vediamo un po' la quotazione. La quotazione mi sembra quasi corretta. Sì. Ci sta. Perfetto. Ci aggiungerei. Giusto per completezza. La parte di. Aggiungi portfolio. Diciamo VIAC. Manual import. Eh però. Eh. Vabbè. Si chiama giusto VIAC. Ehm. Come lo. Come lo posso mettere. Ok. Dovrei mettere gli ETF. I fondi sottostanti. Però è un po' faticoso. È un po' faticoso. Allora. Visto che l'ho costruita. Apparentemente. Come se fosse. Vanguard VT. Facciamo. Facciamo per. Finta che sia. VT stock. Ok. Visto che quello che ho. È questa cifra qui. Ad oggi. E quindi. Questo ce lo salviamo. Questo. CHF. 2 euro. Questi importo qui. Quante share. Quante share equivalenti. Di VT. Sto facendo una cosa. Quante shares equivalenti. Di VT. Facciamo finta che il mio account. Su VIAC. Sia questo numero di shares. Di VT. Che non è vero. Però. Quello che dovrei fare. È. Se funzionasse l'import. Usare l'import. Se no. Io su VIAC. Ho esattamente. I sottostanti. Adesso. Lasciamolo così. Più o meno. Ho replicato VT. Avrebbe senso. Ovviamente. Mettere i sottostanti. Veri. Perché. Perché. Magari. Con i costi loro. E così via. E così via. Sempre. Quindi. Su VIAC. Ci mettiamo. Facciamo un altro portfolio. Finpension. Chiamiamolo. Finpension. Finpension. Manual import. Qui anche. In teoria. Abbiamo. Tre portfolio. Tra me. Mia moglie. E quindi. 2.855 shares. E lo so che. E' un po' fake. Però è quello che ci possiamo permettere. Ok. Perfetto. Abbiamo più o meno. Con qualche fatica. Più o meno. Replicato. Aggregate. Non è tutto il mio patrimonio. Perché. Mancano. I conti corrente. Mancano. Le varie cose. Il secondo pilastro. Mancano un sacco di roba. Quindi. Non è. Questo è il mio patrimonio. Investito. Manca la liquidità. Possiamo mettere. Possiamo far così. Penso che uno possa anche. Aggregare. Aggregare. Come si chiama. Aggregare. Agganciarsi ai conti corrente. E connetter le cose. Però io vorrei vedere quanta liquidità ho. In teoria. Ce l'ho già la liquidità. Da qualche parte. Cash. Eccolo qua. Questa è in franchi svizzeri. CHF2EUR. Perché stiamo misurando tutto quanto in euro. E abbiamo questa. Un portfolio. Lo mettiamo cash. E facciamo così. Grazie. Patrimonio. Vai via. Per. Penso perché è carino avere. Add portfolio. C'è. Custom. E mettiamo soltanto cash. Cash. Deposito. Tac. Oggi in euro. Che stiamo. Amount. Ah ok. Description. Mori. E required. Cash. Ok. A parte altre cose. Che adesso non stanno indicate. Questo dovrebbe essere. Una buona rappresentazione. Del mio patrimonio. Vedo che c'è un'evoluzione giornaliera. Perché tutto comprato alle 7 del mattino. Tutto comprato stamattina alle 7. E già da 1,8. Sono già passato a una. Ho fatto 5k. Da quando l'ho comprato alle 7 del mio portfolio. Interessante. Allora. Ovviamente immagino che. Non ho storico. Perché ho fatto tutti acquisti oggi. E via. Se non ti hai calcolato un gain dalle 7 del mattino. Sarebbe assurdo. Infatti no. Perché questo qui è real time. Questo è carino. È interessante. Purtroppo si appiattiscono il pass. Non ho dati su una settimana. Si può mettere. Vedo qui. Sia solo performance. Che portfolio value. Vi puoi vedere l'andamento del portfolio. Oppure le performance. E così via. Bene. Siamo su del 0,69%. Rispetto a. A più 12.000. Oh. È una roba. È una roba. Ok. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Ah. Qui abbiamo. Allocation. Funzione premium. Ci arriviamo dopo. Vediamo se le funzioni base. Dai. Tutta roba prima. Io ho l'account premium ovviamente. Quindi cosa possiamo vedere qua? Possiamo vedere l'andamento. Con l'account base possiamo vedere l'andamento storico. Immagino che sia possibile dare dei costi di transazione. Se io editassi qualcosa. Edit. E mettessi. Dove sta? Se editassi. Potrei mettere negli input. Trading cost forex fees. Ok. E tasse. Tasse in caso di vendita. Immagino. Ciò che è fatto a mano è un po' faticoso. Ammetto che è fatto a mano è un po' faticoso. Se l'import prendesse questi dati. Non sarebbe male. Allora potrebbe essere carino mettere tutti questi acquisti fatti tipo un mese fa. E vedere come evolveva il portfolio. Ok. Queste penso che si. Andiamo un po'. Quest'altra roba qui. Cos'è? C'è una watch list. Subito col bitcoin. Aspetta. Buono. Neanche morto. Neanche morto. Ovviamente. Cioè. Questa non è roba mia. Io vorrei mettere in watch list qualche cosa. Alfonsino. Alfonsino spa. Alfonsino spa. Voglio monitorarla attentamente. Come posso aggiungere in watch list? Mi immagino che sia questo. La mettiamo nella new watch list. Posso dare nomi anche alle watch list. Questa si chiama new watch list. Ah posso aggiungere varie watch list. Ok. L'ho messa in new watch list. Alfonsino è una stock italiana. Non è un consiglio d'acquisto. È una meme stock del canale. È meme stock del canale. Se parlo sulle watch list adesso abbiamo. Alfo. Sì ma questi non ce l'ho mai messo. Perché mi trovo bitcoin nella watch list? Ma chi cazzo? Chi te conosce? Non mi interessi questa cosa che non mi fa impazzire avere monnezza nella watch list. C'è il tasto edit in alto a destra. Vediamo un po'. Attenzione. Ah vedi? 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 Ok abbiamo imparato. Con edit. Giustamente. Era anche intuitivo. Sono proprio boomer. La watch list ha un piccolo menu qui. I tre. Si può creare nuove watch list e così via. Ma si può editare. E quindi immagino che possa andare qua. Andare qua. No posso spostarle. Ok. Oh. Perfetto. Torniamo. Voglio vedere adesso la for you. Dovrei vedere notizie sulle aziende che ho messo in watch list. Che ne so. Salesforce. Blah blah. NVIDIA più 5%. Ha fatto una partnership. Blah blah. Ok. Quindi mi trovo nel for you. Nel feed. Le notizie. Che vengono dalle security che ho nella watch list. A cui ho dato diritto di darmi informazioni nel feed. Non so bene. Ah non avendo. Avendo account premium. Vedo feature premium. Quindi non so bene dove finiscono le feature free. Questa poteva essere una. Potevo creare un account free. Non premium. E cercare di esplorarlo al massimo. Adesso entreremo in feature premium. Col premium andiamo di notte. La location c'è anche nel base. La location intendete dire qua. Ah ok. Vero. 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 Non ho modo penso di sopprimere l'account premium. E non ho intenzione di crearmi un altro account free e di fare import. Sarebbe interessante capire quali feature sono non premium e quali premium. Andiamo un po' a show more. Qui abbiamo divisione tipologia. ETF cash stocks. Immagino che se qui avessi messo i fondi pensione non mappandoli in vittima avrebbe detto non ETF ma mutual fund o qualcosa. Immagino. Posizioni. Ok. Tutte quelle che gli ho indicato. Con bel grafico a torta per far con te. Ma troppa roba. Mamma quanta roba. Ho troppe cose. Ho troppa monnezza. Deep dive. Cosa fa? Deep dive. Vediamo un po'. Vanguard total world stock. Cosa fa? Ah bello. Bello. Però ti porta. Questo è carino. A me questo mi piace. Ti riporta il pricing in real time. Ah. Vabbè. Diciamo che avendo un solo broker queste informazioni le vedo anche se vado su Interactive Brokers. Ma se uno avesse più broker, più strumenti da aggregare, questo potrebbe essere carino. Ti fa vedere i costi. Il volume in billions. Asset class, se c'è distribuzione, bla bla bla. Le news a riguardo. Ok. Sta cosa non mi fa impazzire. Ho un account premium e mi mostra contenuti sponsorizzati. E so sempre broker che non mi piacciono. Questo è un contenuto sponsorizzato. Quindi nel loro business model c'è anche sponsorizzazione abbastanza frequente nei feed. Contenuto promoted. Contenuto promoted. E contenuto promoted anche qui. Dividendi. Bello. Quando è che sgancia il dividendo a settembre? Vanguard VT. Forecasted. Attenzione. Payday il 21 che è tipo dopo domani. Quindi sarebbe ora anche di dirmelo per davvero quanto è il dividendo di VT. Forecastano un dividendo bassino. E vabbè. Meno tasse. Ah il 25 che sto dicendo qua. Settembre e settembre. Siamo marzo e dicembre sono sempre quelli più fighi. Come cicciotti, come dividendi. Dividend yield del 2,11%. Nel 2024 con un po' di forecast. Tutta la storia dei dividendi. Bella. Questo ammetto che mi sta piacendo. Mi sta piacendo. Mi sta piacendo. Questa feature. Questo non me ne può fregare di meno. Top dividend ETF non me ne frega di meno. Ok. Stiamo dentro deep dive. In realtà penso che questo c'era già se cliccavo qui. Non è un deep dive. Esatto. Quindi il deep dive scusami da position e deep dive. Asset class. Ok. Regioni. Nord America. Ok. Secondo me qui gli manca un po' di roba. Perché mi sembra strano che soltanto il 41% di questo portfolio è Nord America. Anche perché? Anche perché? International. C'è molto US. High dividend yield. C'è value sviluppati europei. Giappone, UK, Asia, Emerging. Ok. Mi fa strano che questo order da dove viene? Da dove viene questo? Ci clicco. Mi fa vedere da dove viene questo order. Order c'è cash. La parte obbligazionaria non capisce da dove viene. Questo sarà order. Tutto l'order? 557.000. Ok. Ok. Vabbè. Almeno questo è fatto. Ok. Tutto il Nord America. 728.000. Infatti qui è tornato franchi. Ha fatto tutto in euro. Qui è tornato franchi. il CSS, il CSS, il CSS, ok. Clicco qua e vediamo che la parte Nord America si trova. Questo è carino. 56% di questo di VT e ci sta. Value, questo penso che sia VTV, dovrebbe essere 100% America. le small cap value, questo qui è tutto americano, credo. Mi piace questa funzionalità. Ho paura che non sta prendendo i dati giusti. Perché qui mi piace questa funzionalità. Se volessi fare un po' il Paolo Coletti e essere un po' più esposto in America, un po' meno esposto in America, un po' più esposto in Europa, avere un rapido sguardo sulla distribuzione geografica è molto interessante. E anche sapere, ad esempio, Nord America al 41% come dove sta e vedere in ciascun prodotto quant'è l'esposizione, questo è molto carino. Però non credo che Intel... Intel è quotata dal Nise. A meno che questo qui non è un breakdown. Perché mi appioppa... Perché mi appioppa Intel soltanto al 2,48% in America? È il 2,48%. Ah, ok, la somma fa 100%. Giustissimo, giustissimo, giustissimo. Settori, asset, equity, bond, cash, other. Ok. Countries. USA, other. E currencies. Mi dice a cosa sono esposto. Questo è carino. Questo è carino. Mi sta piacendo questa parte qua. Però dovrei giocarci un pochino. Altre cose che fighe che si possono fare. Vediamo un po'. AI Analysis. Ok, ci sta un... Ci giochiamo l'analisi? Start Analysis. Vediamo che vuol dire AI Score 83. Ho usato un'analisi su 5. Penso che facendo update la rifà. Non mi sembra di vedere molti parametri. AI Analysis è un click. Non posso chiedergli un'analisi specifica. Però cosa ha prodotto? Ha prodotto portfolio score 83 su 100. Your portfolio ranks higher del 95% dei get queen user. Ottimo. E anche questo qui non l'ho capito. Vediamo un po' se c'è un'informazione. Va bene. Ok. Nessuno si prende accountability qui. Raccomandazioni. Aumenta diversificazione. Considera di aggiungere più... Leggete voi? Un po' piccolo. Considera aggiungere più asset class come le commodity o real estate to reduce reliance on fixed income and equity. This can help mitigate risk and equity market volatility. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Se vuoi fare proprio la... Ci sta. Geographic diversification. Aumenta l'esposizione agli emerging markets e underrepresented region to balance the heavy weighting in developed market. In teoria se il VT lo prendi bene gli emerging markets ci stanno dentro. Ciccio. Però la parte value, la parte quality non sono... Sono soltanto mondo sviluppato. Questo potrebbe non essere male. Questo potrebbe non essere... Una sovraesposizione... Cioè potrei correggere la sottoesposizione emerging markets per la parte factor del mio portfolio. Potrebbe esserci la parte emerging markets. Il resto... Il resto se pensi che ho investito in other... Che analisi fai? Sector rebalancing. Rebalance this portfolio to reduce overexposure to sector like financials and technology. Consider increasing allocation to underrepresented sectors. Ok, mi sembra che l'AI va a una sua idea di portfolio medio e vede se c'è delle sovraesposizioni, delle mancanze di diversificazione. Currency edging. Implement currency edging strategies to protect against... Vabbè. Ok. Recommendation. Show insights. Ah, intanto. Vediamo un po' l'analisi. Analisi. 10 su 10. Well balanced. Diversification. Ok. 9 su 10 rischio. E io voglio cliccare ovunque qua. Raccomandazione. Vediamo un po'. Show insights. La clay. No. Clicco e non clicca. Diversification. Clicco. Oh, eccolo qua. Ho troppo other, come al solito. Ho troppa America, ma in realtà c'ho tipo il doppio d'America. Ho troppe banche. Cioè, avete presente tutta la mia battaglia contro le banche, contro i promotorini, contro i fondi vendoli? Scherzo. Scherzavo. Poi, risk. Ah, ogni volta che clicco. Eh, però la UI, amici miei. Se clicco qui, questa è la parte recommendation, che era di default. Quindi entrato in questa view, io avevo qua la parte già recommendation, che è l'espansione di cliccando qua. Cliccando qua, vedo quello che vedo adesso. Se clicco altrove, il right pane si cambia in base a quello che sto espandendo. Però non era ovvio che di default era già questo. Pensavo che ci fossero altre raccomandazioni. Anche perché, però beh, si chiama recommendation qui, recommendation qui. Era intuibile che erano le stesse cose. Eh, ok. Ok, rischio, mi dice, rischio molto alto. Risk status low. Ok, quindi va molto bene. Va molto bene. Zero per cento dei tuoi holding can be considered risky. C'ho un ETF russo. Ho un paio di meme stocks. Ah, vediamo com'è definito il rischio. High risk instruments are those with characteristics, including magnetization, etc., that make them prone to significant price fluctuations or potential illiquidity. C'ho un ETF russo. Che non è potential illiquidity. È una cifra, illiquidity. È vero che però sono 40 dollari, quindi ci sta che è zero per cento. Penso che questo qui è tarato su un rischio diverso, tipo individual stocks molto volatili, avendo ETF. Sì, però, però, però dai, non mi sento, non mi sento così sicuro. Sarei più prudente, bro. Costi, fee. Ma come? Ma come? Sarà tarato sulle cripto. 80-20 rischio... Però sui fee, cioè io ho i fee più bassi del mondo. Ho i prodotti con i fee più bassi del mondo. 83% dei prodotti hanno costi... Ah, grazie al CA. Ah, ok, mi stai dicendo che ho degli ETF. Cioè la parte che non ha ETF è il cash e le azioni singole. Ecco, qui, suggerimento a GetQueen. Io probabilmente cambierei la definizione di fee. Cioè prodotti con tar dello 0,07%, metterei thumbs up. Non direi, eh, guarda che quel prodotto ha dei costi di gestione. Cioè sarei un po' più quantitativo e non qualitativo. È vero che l'83% dei prodotti hanno costi impliciti e che molti stanno tra 0,03 e 0,20. Attenzione, costi diretti e indiretti possono impattare le performance. Minimizza i fee, mi raccomando, eh. Your annual return is expected to degrees by approximately due to implicit product costs. Questa è interessante, però vorrei un report dettagliato. Qua non me la bevo. Proviamo a ragionarci. Implicit costs for ETFs, mutual funds and similar financial instruments are not directly charged. These costs are often overlooked by investors, but can see an impact. Sì, però mi devi dire cosa intendi. Sono i TER che poi su portafoglio qui che stiamo vedendo si parla di un milione... Su un milione e otto questo è 0,01%. È esattamente un millesimo. Sono 10 basis point. Ok. Però comunque è carina come cosa perché mi fa vedere... Ah, non mi sembra in grado di darmi suggerimenti quantitativi. Quindi non mi sta dicendo... Beh, ok, spendi 2k in fee ogni anno. Però, oh, thumbs up, su 2 milioni 2k è lo 0,10%. Allo stesso tempo però mi piace vedere che anche con prodotti economici, con 2 milioni di portafoglio, 2k l'anno, i vari gestori dei vari prodotti se li mangiano. Che poi è lo stesso che spende vostra zia con 50k investiti in banca in culia. È un altro discorso. Ogni anno, ricorrenti. Però fa comunque sorridere. Ultimo, macroeconomics. 7 su 10. Però non me la bevo. Non mi puoi dare 7 su 10 per i costi. Mi spiace ma non mi puoi dare 7 su 10. Cioè ho prodotti con ter bassissimi. Ho lo 0,10% di ter medio. Non mi puoi dare 7 su 10. Macroeconomics. Allora, correlation to macroeconomics factor. Low. Low correlation to macroeconomics factor. Vediamo un po' che significa. Macroeconomics factors significantly influence the financial market. For investors, understanding and adapting to these broad economic trends is key to identify risks and opportunities. Allora, changes in interest rates can significantly impact the fixed income portion. Ok, mi sta dicendo a me, hai degli ETF obbligazionari con troppo lunga duration. La crescita economica può influenzare le performance di equity investment in sector like my technology and financials. Questa ha preso. Piglia i top 2 sectors che ho nel portfolio e basa l'analisi su questo qui. Strong economic growth, can boost corporate earnings, stock, bla bla bla. Ok, sono troppo dipendente dall'economia secondo lui. Currency fluctuation. Ok, le critiche al mio portfolio sono su troppa esposizione a currency non locale, su troppa dipendenza ai tassi di interesse e sulla troppa dipendenza da alcuni settori. Diciamo che magari a me non lascia molto sta analisi, però è carina, è carina, ci sta, ci sta. Torniamo un po' a vedere altre feature premium. AI analysis, performance. E poi dividends. Performance. Performance. Portfolio. Non ho che cosa sia, ho che cosa su. Performance. Ok. Eh, performance immagino che dovrei avere un po' più di storico. Che però. Portfolio che ha fatto il 30% da stamattina. All time. Non so in base a cosa mi sta dando queste percentuali. Sta veramente dando il time-weighted return, basandosi sul fatto che nell'ultima settimana, ma in realtà nell'ultimo giorno, ha fatto un 0,2% di interesse di ritorno. Cioè sta dicendo, visto che oggi stai in positivo perché i mercati pare che vanno bene, allora il time-weighted, vabbè, quindi diciamo che se uno non ha dati passati significativi, questo è sballato. Cioè dipende da oggi e l'ha proiettato sull'anno. Ok. È il true time-weighted return. E anzi, questo è impattato tantissimo da Terraformi Mars che ho comprato qua e venduto qua. Se non avessi messo il portfoglio di Terraformi Mars, tutto sarebbe nato oggi. E visto che sta in positivo il mercato, mi direbbe che sono Elon Musk. Abbiamo dividend, andiamo un po', dividend, ok, non c'è molto, non ho una pagina apposta, però forecast, 2024, mi fa vedere i dividendi che si aspetta, dicembre tra i vari prodotti, ok, c'è un focus sui dividendi, quindi se uno volesse usarla come per vedere, diciamo per fare dividend investing, questa potrebbe essere carina come cosa. Dopodiché c'è rimasto qualcosa, transaction, se no, nel portfoglio, ok. Penso che abbiamo visto tutte le feature. Ah, insomma mi piace, se mi chiedete se mi piace. A me non mi è dispiaciutissimo, però è ancora molto buggato, secondo me. Cioè ha un po' di problemi, però l'idea è interessante. Non conosco molti altri strumenti che fanno questo lavoro. Il punto di forza penso che sia aggregare i vari portfogli. se hai più portfogli su più strumenti. Io sono un po' un caso a parte, perché io sono amante degli spreadsheet e del pieno controllo. Però non tutti hanno questo taste. C'è gente che vive bene con l'app della banca per le spese o i report della carta di credito. Io sono un po' malato e quindi a me piace aver pieno controllo. Quindi in generale non considero di usare questi prodotti. Se avessi più portfoglio e se fossi meno gen ex di come sono io, un prodotto del genere lo potrei considerare. Non so bene la parte free. Ecco, questo forse è stato un po' una mancanza di questa live. avendo un account premium, forse avessi dovuto fare un account free per capire bene le limitazioni. E anche per vedere gli upsell. Quanto fastidiosi sono gli upsell, quanto limitanti sono le feature. Il monitoraggio di portfolio sembra fatto bene. C'è qualche baghetto da risolvere. Però io, parlando con loro, sono veramente un team di nerd. Sono gente che fa proprio, sono dei programmatori. Non hanno proprio, diciamo, non sono così marketer e UI specialist. Sono dei nerd. Quindi questo qui li apprezzo. E quando vedo nerd che guidano aziende, a me trovo un affetto a pelle. Però forse, ecco, magari un marketer, qualcuno che pensa anche alla UI, alla... Non lo so, è migliorabile come prodotto, ma l'idea è molto buona, secondo me. Grazie a tutti.